Nuova puntata di Rapporto Casale con il Vice Sindaco Emiliano Casale che ringraziamo come sempre per l'ospitalità. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Partiamo subito dalla nomina del Comandante Piricelli, il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Caserta, tra l'altro immediatamente in campo per una operazione di Action Day che è stata realizzata ad uno degli ingressi di Caserta. Sto parlando di Via Due che ha portato dei risultati molto interessanti ma è un'operazione propedeutica a quelle che saranno le rinnovate attività di questo corpo, che è un corpo importante che rappresenta Caserta Città e la sicurezza di Caserta Città. Intanto grazie anche al lavoro svolto fino ad oggi dal Comandante Luigi De Simone, un passaggio, quindi un cambio al vertice con il nuovo Comandante Antonio Piricelli a cui l'amministrazione ha dato il benvenuto e fiducia per questo nuovo incarico. È iniziato un lavoro ovviamente in primis su impulso del Comandante ma sicuramente anche su una richiesta che l'amministrazione con il sindaco a capo è stata fatta nei primi giorni di insediamento quella di una percezione maggiore di quelli che sono appunto gli uomini della Polizia Municipale. Sappiamo senza nasconderci che siamo sotto organico per i pensionamenti e per tutte le motivazioni che conosciamo ma nonostante questo la voglia di dimostrare che esiste un corpo vigili anche valido è stata tanta in questi giorni da parte del nuovo Comandante appunto da creare questo giorno di azione, questa Action Day che ha visto insomma le squadre che escono su strada, i motociclisti, le pattuglie, essere presenti in parti strategiche della città di ingresso e di uscita e quindi anche con una verifica costante del rispetto di quelle che devono essere le regole del divieto di sosta piuttosto che la doppia fila, il controllo, le verifiche della sicurezza ma anche interventi che la Polizia Municipale fa che spesso non si sanno sono molti interventi su abusivizi, sversamenti, illeciti e tante azioni che svolge anche all'interno dell'ufficio. è un corpo che va rimpinguato come numero, ci stiamo lavorando e questo è l'anno giusto arriveranno le nuove assunzioni che noi puntiamo prevalentemente nel corpo vigili soprattutto su strada e negli uffici strategici perché quello che la città deve avere, come sta avendo in questi giorni, è la percezione che esiste un corpo vigili che riesce a tutelare in quel che può la città e il cittadino e le regole. Le problematiche, non ci nascondiamo, sono tante e su questo motivo per il quale anche gli ausiliari della sosta intervengono con un decreto a dare il loro contributo sulla striscia pedonale piuttosto che sul divieto di sosta e sugli stati disabili dove siamo tutti concordi che c'è bisogno di un rigoroso rispetto per dare il posto che spetta a chi ha una disabilità e a cui è stato assegnato il posto. Una città civile si vede anche in questo e quindi per noi questa è la priorità. L'operazione Action Day dell'altro giorno è propedeutica verso altre nel senso che ce ne saranno di più rispetto al passato proprio per il controllo e per anche la sicurezza del cittadino? L'amministrazione dimostra di avere a cuore la sicurezza del cittadino al punto tale che sullo straordinario per i vigili urbani ha stanziato un importo importante come l'anno scorso importi che non si vedevano negli ultimi decenni proprio per attivare gli straordinari soprattutto notturni e soprattutto in grande collaborazione con la Prefettura e la Questura e il tavolo di ordine pubblico. La gestione dell'ordine pubblico non è a carico solo della Polizia Municipale ma è coordinata da un tavolo in cui fanno parte Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e quindi un lavoro del genere che continua incessantemente nei weekend, il momento più clou per la città di Caserta che vede l'arrivo di tantissime persone da fuori soprattutto nella parte della Movida presente e quindi un controllo anche alle porte di ingresso e di uscita della città senza dimenticare anche il fenomeno nazionale che si sta verificando quindi i continui furti, le persone che chiaramente in mancanza di lavoro cercano di ovviare con furti e rapine e questo è un altro lavoro e questo è un altro lavoro chiaramente che è il compito del tavolo di ordine pubblico di controllare che chiaramente non è solo il weekend ma è continuo quindi è un lavoro continuo, è un lavoro costante è un lavoro di monitoraggio del territorio che ci aiuta a capire come si muovono i flussi delle persone dove ci sono gli interessi anche illeciti e quindi chiaramente il nostro intervento insieme a loro Tracciamo un primo bilancio, è trascorso poco tempo poco più di 15 giorni dalla svolta per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma che risultati avete? Intanto devo dire che è sempre tutto migliorabile e siamo qui per ascoltare quelle che sono le istanze e le richieste che i cittadini devo dire che negli ultimi 15 giorni o nei primi 15 giorni se così lo vogliamo chiamare iniziando a vedere davvero bus girare hanno iniziato a fare delle richieste di fermate e di cambiamenti di linee ma dove non erano mai state presenti quindi non è che le abbiamo eliminate anzi c'è la voglia di tornare dopo tanti anni a prendere un bus perché iniziano a vedere un servizio visibile bus tra l'altro devo dire almeno per quelli che ho potuto vedere io anche pieni è certo che la comunicazione deve continuare il servizio deve essere ancora più pregnante il montaggio delle paline diciamo elettroniche in questi mesi e l'aumento delle fermate sarà oggetto sicuramente di maggiore visibilità e di servizio per cui se ci sono delle indicazioni, delle osservazioni che ben vengono da parte i cittadini sia al Comune ma anche alla stessa società Air Campania un paio le abbiamo già corrette in corso d'opera proprio su richiesta della cittadinanza e questo ci fa capire che la sinergia può portare a un risultato quindi non una polemica sterile ma una sinergia, un supporto appunto tale da approfittare di questi mesi di rodaggio per modificare e dare un servizio in più che è quello che vuole l'Air Campania ma è quello che vuole anche l'amministrazione comunale abbiamo avviato un percorso che devo dire la verità ha generato entusiasmo e anche tanta partecipazione Senta, ci avviciniamo al Carnevale giorno 4 lei ha annunciato la scorsa settimana che ci sarà la sfilata dei carri nel centro storico in particolare a Piazza Vambiteri ci dice qualcosa in più? Sì, noi cerchiamo ogni anno di aumentare l'attrattività della città nei vari periodi dell'anno uno di questi è il periodo di Carnevale l'anno scorso ci siamo riusciti quest'anno sarà ancora più bello ci saranno 10 carri a breve uscirà anche una comunicazione ufficiale da parte del Comune che organizza il Comune insieme all'Associazione Arca un'associazione riconosciuta sul territorio che da anni realizza carri carnevaleschi quest'anno l'abbiamo impreziosita con qualche novità in più ci sarà la presenza dei bottali di macerata il numero di carri sarà maggiore e chiaramente la presenza la mattina in Piazza Vambitelli e il pomeriggio lungo tutto il tratto del corso di chieste ZTL quindi il secondo tratto per animare e far divertire i bambini e le famiglie dare la possibilità di aprire il Carnevale domenica 4 febbraio dalle 10 alle 13 e 30 in Piazza Vambitelli e dalle 17 alle 20 e 30 lungo tutto il corso di chieste a breve uscirà una comunicazione e ci sarà davvero tanta partecipazione sono sicuro non solo da parte della cittadinanza ma da tutto l'Interland della provincia ovviamente grazie e buon lavoro grazie a voi